Verrà pubblicata nei prossimi giorni la gara per la rimozione e l'immediata piantumazione di nuovi alberi sul territorio comunale di Eboli. Le specie in questione sono i tigli del viale Amendola e di via Matteotti e i bagolari di via Buozzi, i quali dopo un'accurata indagine sono risultati malati ed instabili, oltre che un pericolo per la pubblica incolumità. I 76 alberi verranno sostituiti con dei mirti, specie arborea più adatti ai luoghi ed indicata nel piano del verde della città, redatto dal dottor Michele Biondi e dall'architetto Paola Cimmino.